Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa nuova non recensione per il canale YouTube di Marcos Box. Questa volta andremo a dare uno sguardo a caldo a Nitrux. Nitrux che cos'è? Una distribuzione, adesso ve la faccio vedere, basata su Debian, sviluppata in Messico originalmente, basato sul ramo instabile di Debian, utilizza le cuttine e utilizza sia KDE Plasma che KDE Frameworks per ricreare un suo desktop environment chiamato NX Desktop, che ha un look and feel che ricorda il sistema operativo della mega morsicata, quindi con una dock in basso, il pannello superiore che va a inglobare anche i tasti minimizza, massimizza e quant'altro. Quindi, soluzioni già viste su altri sistemi operativi proprietari. Qual è l'altra particolarità di NX, di Nitrux? È che ingloba al suo interno applicazioni in formato App Images. Quindi il terzo incomodo nella battaglia tra i formati di pacchetti, quelli all inclusive, quindi tra Flatpak, Snap e c'è il terzo incluso che è App Images, che ad alcuni può piacere, ma a molti di voi anzi piace. Perché ho deciso di riprovare in macchina virtuale questa distribuzione? Perché è uscita una nuova serie di Nitrux, la 3.2.0, e mi sono detto, ma sì, perché no, perché non proviamo? Io da tempo che volevo installarla, non ho mai avuto il coraggio di installarla su macchina reale, ho sempre provato in macchina virtuale con una serie di problemi quando andavo a lanciare, e ve lo dico proprio apertamente, anche in questo caso sto avendo una caterma di problemi quest'oggi nell'installare Nitrux, e questo è il tantissimo tentativo della giornata. Se seguite il canale Telegram della community, Telegram di Marcosbox, vi avevo postato anche un video oggi pomeriggio con il primo tentativo andato a male di installare Nitrux, ma in quel caso era colpa mia, principalmente, meglio, nella prima parte del video era colpa mia, perché mi avevo dimenticato di riattivare la virtualizzazione dopo aver aggiornato i BIOS, come un deficiente, e quindi la lentezza era dovuta a quello. Però c'è un altro problema che ha questa distribuzione, cioè questo, un installer è basato su Calamares, che come potete vedere è stato anche aggiornato in questa nuova versione, e dà problemi, mi sta dando problemi in maniera assurda. Vedete, c'è per esempio questo qui, ci vuole la password, vedete che tipo di password deve essere messa, ed è una cosa assurda. Io voglio mettere una password semplice perché me ne dimentico, perché me la rimette, maledetta te. Vabbè, comunque, proviamo a instargarla, speriamo che questa sia la volta buona nell'installazione, perché fino ad ora, oltre ad aver avuto il problema con la password, sto avendo problemi che mi si crascia l'instargarla, ma sono fiducioso che questo sia il tentativo giusto. Vediamo le novità di questa nuova versione. Come dicevo, in questa nuova versione abbiamo il solito consiglio di aggiornamento di tutti i pacchetti basi, quindi Firefox è aggiornato nella versione 120, ad esempio KDE Gear, quindi parco applicazioni di KDE, che viene aggiornato alla versione 23.08.3, che è quella lì, praticamente, che è stata rilasciata ad inizio di novembre, quindi aggiornatissima anche in questo caso. Aggiornamenti in Calamares, come vi dicevo, aggiornamenti in microcode dell'Intel, aggiornamenti del pacchetto Linux firmware, che include tutti quanti una serie di firmware proprietari. abbiamo poi aggiornamenti qua e là. Abbiamo Pipewire, che è stato aggiornato nella versione 1.0, quindi anche in questo caso è una distro che è aggiornata, perché Pipewire 1.0 è stato rilasciato giusto qualche giorno fa, tre giorni fa, quindi il giorno 26 di novembre. Abbiamo poi aggiornamenti di pacchetti, e i driver Nvidia, che sono la versione 545.29.06, ma vediamo... Ah, è un'altra cosa molto importante, è il kernel 6.6.2 Reqorix. Ma andiamo a dargli un tentativo di installazione. Se si blocca anche questa volta l'installazione, vi posto il video così come ci rinuncio. Non sono io, è lei che mi odia a questo punto. Facciamo partire da live. Aspettiamo che parte. Carino anche dal punto di vista grafico. Cioè ci iniziano a arrivare qualche messaggio strano di errore, ma non riguardiamo, ignoriamo. Siamo fiduciosi che questa volta andrà tutto per il verso giusto. Che bella l'animazione. Ed eccoci qui davanti a Nitrux. Allora, innanzitutto cambiamo subito la risoluzione, perché se no non si vede niente. Mettiamo almeno qualcosa in 16 noni. Mettiamo a 96 per 900, vai. Keep. Anzi, non mettiamo a 96 per 900, perché se no mi si sbagga il mouse a sto punto. Bug su bug. Mettiamo qualcosa di più basso. tazzo che non mi si spaga non lo vedete per andare a fare il check devo spostarmi molto più bug su bug sto odiando questa distra questo è l'aspetto di NX desktop abbiamo una barra in basso qui è il lanciatore applicazioni troviamo anche preinstallato botless come potete vedere nitroshare cos'è questo software bello grigino su sfondo bianco si riesce a leggere una mazza quindi ignoriamolo bellamente per questa intelligente scelta di combinazione cromatica questo è un programma per scriverci due note ciao ok come potete vedere su questa distribuzione i pulsanti vanno a posizionarsi in alto a sinistra nella barra superiore ma anche evidentemente questa applicazione è buggata perché mi mostra i controller anche dall'altra parte bug su bug vedete non sono io che trovo i bug sono i bug che trovano me troviamo preinstallato pix pix se non ricordo male un'applicazione di no non sto sbagliando era un'applicazione di di cinnamon un visualizzatore di immagini vediamo più che cosa troviamo preinstallato waydroid strike che cos'è questo qui che cos'è new project open project vabbè non la conosco questa applicazione devo ammettere la mia ignoranza vediamo se questa qui si bugga anche questa qui si bugga e duplica i comandi perfetto questo è il file manager index che ha un diciamo non so che di di carino dal punto di vista grafico non mi dispiace andiamo a largare come potete vedere c'è un design responsivo la siga barra superiore c'è tutta questa caterva di pulsanti qui che anziché mettervi che ne so la scritta download vi mette il iconcina che subito potete cliccare diciamo così cliccare più velocemente immagino che tutta questa che la decisione di fare una una disposizione di questo tipo di file manager sia principalmente dovuta a un utilizzo su dispositivi touch perché effettivamente c'è tutto questo spazio inutilizzato attorno al simbolo del del percorso quindi nel caso che ne so la home scaricati questi sono i documenti questi sono le immagini la musica quindi tutte le varie cartelle hanno lasciato questa disposizione con il pulsantone per renderla più facile da cliccare in caso di dispositivi touch perché effettivamente dal punto di vista dell'utilizzo con mouse e tasiera non mi sembra una gran bella cosa diciamo così un inutile spreco di spazio vediamo più che cosa abbiamo più qualche altra cosa che c'è sfuggita ovviamente abbiamo quantum che gestirà tutta quanta tutta quanta come l'ho detto la gestione dei temi anche per applicazioni non scritte in cutie questo è per il driver nvidia e next software center questo è il software center è crashato anche in questo caso abbiamo le solite disposizioni di lupus antoni queste saranno le categorie immagino programming questo è system and tool e quindi troviamo una serie di applicativi che possiamo installare immagino che sono tutte applicazioni in formato principalmente in formato app images vediamo sul browser app image infatti vedete anche brave per esempio ve lo installa in formato app image quindi da precedenza le applicazioni in questo formato vediamo un po' nei settings nelle impostazioni di questo dnx software center se c'è qualche cosa se partono le impostazioni riproviamo a vedere non fa niente perfetto stupendo leggermente bugato c'è la possibilità di installare steam installare anche client each.io per quanto riguarda i giochi perché c'è uno piccolo sto che ci sono dei giochi simpatici vecchio stiga ma simpatici bonsai che cos'è vediamo un po' bonsai non capisco che cos'è per gestire git non lo so sono anche tutte applicazioni che non conosco fai romano non serve per quello perfetto che applicazioni più o più installare heroic games buo buo per le note ma non c'è già un'applicazione per le note che è un'applicazione duplicata per le note in questo caso che cosa abbiamo più abbiamo ovviamente firefox browser predefinito immagino che sia stagato anche in questo caso in formato app images creep che è il player multimediale per la rivoluzione dei video anche qui c'è tutto lo stile grafico tipico di questo desktop environment quindi con i pulsantoni che tanto piacciono agli autori di nitrux che abbiamo più abbiamo poi il terminale beh questo questo mi piace questo come è fatto mi piace non mi dispiacerebbe vedere un terminale un emulatore di terminale di questo tipo anche su 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 kde maximizzo questo perché maximizzo è una x perché maximizzo è baggato tutto è tutto baggato qua in questa distribuzione va bene proviamo a installare vediamo se la volta buona se funziona ma è così vi faccio vedere anche l'installer grafico sperando che questa volta funzioni la lingua viene riconosciuta però hanno personalizzato molto calamares per rendolo carino andiamo a dare Europa andiamo a dare Roma dove sta Roma attivanti mettiamo città del Vaticano come avevo fatto nel primo video più tanto è la stessa cosa tastiera generica vado a dare la lingua no però questa volta provo a non dare la lingua della tastiera guardarsi che è quella che mi fa crescere tutto perché prima ho personalizzato con i layout che utilizzo nella tastiera quindi il layout internazionale mi cresce tutto tante volte guardarsi che è colpa sua andiamo a dare il nome del computer lo chiamiamo marcosbox il nome nitrux la password ricordatevi metto una password complicatissima quindi che ne so mettiamo 1,2,3,4 pippo e ci mettiamo un simbolo un simbolo che può essere il tastino sotto 1,2,3,4 pippo e tastino sotto 1,2,3,4 pippo e tastino sotto non ci crederete ma mi si è bugato nuovamente l'installer non ci posso credere proviamo a mettere vabbè mettiamo questa password 1,2,3,4 ciccio e il trattino sotto visto che questo vuole avere password super uber complicato perché perché ciccio si e pippo no questa è discriminazione verso i pippi allora partizionamento manuale facciamogli fare quello automatico senza ibernazione gli abbiamo dato 30 giga dovrebbero bastargli la macchina virtuale facciamogli andare l'installazione non tocco niente perché ok sembra che stia andando dai che stia andando dai che questa volta va non si blocca l'installer no essa è bloccata un'altra volta l'installer nel montaggio delle partizioni sapete che vi dico vi dico lo dico proprio apertamente la recensione anzi la non recensione di nitrux termina qui non vuole andare l'installazione l'operazione non permessa film gravi sto provando da tutte le maniere a far partire questa questa installazione su macchina virtuale ma non ne vuole sapere di partire se uscite leggete voi se mi sapete dare poi qualche dritta per cercare di capire perché mi si blocca l'installazione io non ho proprio più testo operazione ovviamente perché è colpa di EFI probabilmente ma è il sistema ospitante EFI comunque vi ripeto non ho più voglia di rimettere mano a questa distribuzione questa questa è questa è questa è nitrux una distribuzione un po' complicata graficamente sembra curata anche se come ho detto in modo di vedere ci sono qualche piccola imperfezione qua e là ha un set di applicazioni preinstallate che diciamo può essere anche utile nel fatto vi faccio qualche altra applicazione preinstallata troviamo anche questa applicazione che è fatta in casa che si chiama che si chiama wave però come al solito vedete è baggata che non si riesce a gestire bene la mouse e la tastiera lo riesco nemmeno a ingrandire correttamente giusto per visto che non possiamo installare andiamo a dare qualche altra sbirciativa magari alle impostazioni di sistema andiamo a vedere come viene strutturata la barra delle notifiche e qua sopra in alto c'è i nostri sub-bar quindi nulla di che nulla di quanto non già visto su kd e plasma andiamo a vedere le impostazioni se possiamo avere accesso qui qui come potete vedere per quanto riguarda troviamo un notification center di tipo visto quelli grandi alla macOS diciamo perché anche la macOS ha messo un'area delle notifiche così grande pensata per l'utilizzo anche touch diciamocelo secondo me Apple fra poco implementerà anche le soluzioni touch sui prossimi dispositivi perché su macOS l'avete visto sta iniziando a mettere queste aree delle notifiche molto grandi queste sono le impostazioni di sistema niente più niente di meno che le impostazioni di sistema di KDE Plasma però le organizzate con la vista quella di soltanto icone quindi non c'è nulla di nuovo sotto questo punto di vista quindi è una distribuzione ripeto basata su KDE Plasma apparecchiata in maniera tale da avere una scrivania diversa in stile in stile macOS può piacere a molti di voi io personalmente non amo tanto questo layout e preferisco quando posso utilizzare una disposizione classica con distribuzioni linux però vedo che moltissimi di voi piace questo tipo di layout che lo trovate più usabile io invece preferisco sempre avere la barra fissa non voglio duplicazioni sopra sotto oddio se mi trovo su distribuzioni basate su ad esempio su su gnome sono costretto ad utilizzare la doc e vabbè lì sono costretto però come sapete bene nel mio cuore c'è principalmente KDE che ha un aspetto tradizionale vedete è bello KDE è bello razionale alla lo so alla Windows direbbe qualcuno però è più riotro più usabile così che cose ne pensate voi di Nitrux voi l'avete installata mai Nitrux sui vostri computer avete mai provato a installare in macchia virtuale anche voi vi crash in una maniera assurda ogni volta che provate a installarla fatemelo sapere nei commenti io sono molto deluso mi dispiace per Nitrux magari speriamo che in futuro riuscirò a installare su macchia virtuale a capire il perché di tutti questi problemi che sto avendo in questa giornata potessi soltanto che è una combinazione cosmica di quest'oggi vabbè lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima non recensione ciao ciao